Ervalle pubblica sul suo sito una comunicazione agli utenti che recita così per motivi di carattere tecnico le prenotazioni per i voli sono momentaneamente sospese, ci scusiamo per il disagio causato. Sospesi dunque i collegamenti con l'aeroporto di Pescara, Dai per Catania, Tirana e Olbia. Sempre sul sito di Ervalle si legge dell'atterraggio di emergenza avvenuto a Catania lo scorso 30 aprile causato dalla mancata estrazione del carrello anteriore dell'aeromobile. Un nuovo colpo per lo Scala Abruzzese dopo il caso del taglio dei collegamenti con Fiumicino e la pagina aperta da Ryanair sulla sua dipartita. Proprio ieri però la Saga, società di gestione aeroportuale, comunica i dati degli ultimi cinque mesi sul volume del traffico che attesta un'ascesa significativa. 226.450 unità che creano un incremento del 6% sul progressivo gennaio-maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo stesso mese di maggio registra un più 4% rispetto al 2015. Risultati che fanno esultare Saga alla luce del taglio con l'Hub di Fiumicino, dalle enormi incertezze create dall'annuncio di Ryanair, nonché prosegue la società in un comunicato, i gravi allarmi procurati dagli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles. Aggiungasi inoltre le gravi conseguenze di una vera e propria aggressione mediatica di un certo e prevenuto giornalismo scandalistico e in parte della politica che hanno inciso profondamente sui coefficienti di reputazione dello scalo. Un vero e proprio sfogo che riguarda le notizie trapelate nei mesi scorsi, che hanno visto l'opposizione chiedere a più riprese il commissariamento di Saga. Secondo Saga inoltre il mantenimento delle posizioni e dell'ulteriore sviluppo di traffico aereo sarebbe conseguenza di corrette intuizioni che hanno portato all'attivazione di nuovi collegamenti, con hub alternativi come gli Scali di Linate e Bergamo-Ori al Serio e nei prossimi mesi l'avvio del collegamento con Bucharest tramite Witzar e con Torino sempre a mezzo Air Vallée.